Sura novantatresima Aduha La luce del mattino In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso Per la luce del mattino, per la notte quando si addensa Il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza E per te l'altra vita sarà migliore della precedente Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio? Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida? Non ti ha trovato povero e ti ha arricchito? Dunque, non opprimere l'orfano Non respingere il mendicante E proclama la grazia del tuo Signore